Locronan, piccolo villaggio molto prospero nei secoli XVI e XVII per la produzione di pezzi di lino che venivano esportati in Spagna e Scozia. A testimonianza del passato rimangono le eleganti dimore dei mercanti che ancora piaccheggiano le vie del borgo incredibilmente intatto. Alla biscotteria. Notevole è la Grand Place che spicca per lo straordinario complesso architettonico con case di granito d'epoca e dove si affacciano la chiesa di San Ronan e la cappella d'Upeniti. Costruita tra il 1424 e il 1480, la chiesa in stile gotico fiammeggiante custodisce in numerose statue antiche e un pulpito del 1707. Grazie. 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 Grazie.